Attraverso i 3 milioni di euro dell'asse 6 del Port Vesre stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, i lavori in realizzazione consegneranno alla città di Bologna il laboratorio aperto. Il progetto prevede di qualificare gli spazi pubblici istituzionali adiacenti a Piazza Maggiore. Nel specifico i lavori coinvolgono Palazzo d'Accursio, Sala Borsa, Auditorio Menzo Biagi, il cortile Guido Fanti e le ex gallerie d'Accursio. Questi spazi saranno rinnovati e collegati tra di loro, diventeranno quindi un unico grande spazio più aperto e accessibile. Il laboratorio aperto è quindi un nuovo spazio pubblico nel cuore della città metropolitana, dedicato alla frizione interattiva di beni culturali e alla collaborazione creativa fra cittadini, tra associazioni, imprese, centri di ricerca e istituzioni. Cittadini e turisti di tutte le età potranno accedere a un'offerta di servizi culturali consolidati, ma rinnovati in chiave contemporanea. I nuovi servizi materiali e innovativi saranno declinati nel segno della partecipazione e dell'innovazione.